In una giornata densa di emozioni, Emir e Asu si incamminano verso la casa della madre, Mujgan, immersi in un silenzio che preannuncia momenti significativi. Il percorso è un preludio a quello che sarà un incontro ricco di rivelazioni. Entrando nella stanza, i due trovano Mujgan che come sempre è distesa nel suo letto di sofferenza. È in questo ambiente che Emir, dopo aver scambiato sguardi pieni di esitazione con Asu, trova il coraggio di rivelare una notizia che porta con sé un misto di delusione e rabbia. Con voce incerta ma chiara, confida a sua madre e a sua sorella Kenyan, sua moglie, è incinta. La notizia coglie tutti di sorpresa, soprattutto Asu, che rimane visibilmente scossa dall'annuncio. Il silenzio che segue è carico di non detti e tensioni, mentre la mente di Asu si perde nei meandri delle conseguenze di questa rivelazione. E Mir, d'altra parte, è tormentato da conflitti interni profondi. Il suo spirito è gravato dal peso dell'amore inestinguibile che lega Niana Kemal, un amore che lui non è riuscito a spezzare nonostante i suoi sforzi. Questo pensiero l'ho perseguita, alimentando in lui un senso di colpa e frustrazione che si riflette nei suoi occhi tormentati. La narrazione si espande ulteriormente, anticipando sviluppi futuri ricchi di pathos. Nei capitoli a venire di Endless Love, si prevede che tra Emir e Asu si svilupperà una sorta di legame fraterno, un'intesa che forse nasce dalla condivisione di un dolore e di speranze comuni. Il loro viaggio insieme, a partire dalla visita alla madre Mujgan, sembra segnare l'inizio di un percorso condiviso che esplorerà le profondità delle loro relazioni familiari e personali, portando alla luce nuove verità e, forse, nuove vie di redenzione. Nella travagliata trama che avvolge i protagonisti di questa intensa storia d'amore, emergono nuove svolte che sottolineano la complessità delle loro vite. Nian, dopo una serie di turbolenti vicissitudini con Kemal, scopre di essere incinta di lui. Tuttavia, in uno stravolgimento di eventi, Emir, mosso da gelosia e segreti inconfessabili, decide di occultare questa verità a Nian, aggiungendo ulteriori ombre al loro tormentato rapporto. Mentre la tensione si intensifica, le prossime puntate della serie promettono scene ricche di drammi e rivelazioni. Si avvicina la festa di fidanzamento tra Asu e Kemal, un evento che sembra segnare un punto di svolta per entrambi. Kemal, stanco dei continui alti e bassi nella sua relazione con Nian e desideroso di trovare un rifugio emotivo, accetta la proposta di matrimonio con Asu. La decisione non è priva di complessità emotive e viene in parte motivata da una richiesta particolarmente toccante. Il signor Akhi, figura quasi paterna e mentor di Kemal, gli rivela di essere gravemente malato. Con una malattia terminale che gli lascia poco tempo da vivere, il signor Akhi esprime come sua ultima volontà quella di vedere Kemal sposare Asu, una ragazza che ha sempre visto come una figlia. Questo gesto, carico di significato emotivo, si riflette nei preparativi per la festa di fidanzamento, organizzata con una cura e un'attenzione ai dettagli che mirano a celebrare l'unione imminente, ma anche a soddisfare il desiderio di un uomo alla fine della sua vita. La festa, prevista in una location elegante e riccamente decorata, diventerà il palcoscenico di emozioni contrastanti, segreti svelati e decisioni inaspettate che inevitabilmente influenzeranno il corso delle vite di tutti i personaggi coinvolti. Mentre il pubblico attende con ansia queste prossime puntate, è chiaro che ogni evento porterà con sé una raffica di conseguenze, mettendo alla prova le alleanze e i cuori dei protagonisti, e disegnando nuove traiettorie nel loro tumultuoso viaggio emotivo. Durante la sontuosa celebrazione dell'imminente fidanzamento, l'atmosfera festosa e le risate si trasformano improvvisamente in preoccupazione e sussurri. Nian, al culmine della cerimonia, mentre tutti gli occhi sono puntati su di lei, vacilla visibilmente, la sua figura elegante come una statua che oscilla al vento. Un silenzio carico di tensione si abbatte sulla sala quando, improvvisamente, lei perde i sensi e crolla priva di sensi davanti a tutti i presenti. L'incidente scatena un caos controllato mentre alcuni invitati si precipitano ad aiutarla, sollevandola delicatamente per trasportarla al più vicino ospedale. Arrivata in pronto soccorso, circondata da luci fredde e volti concentrati, Nian riprende lentamente conoscenza a lei, ancora confusa e turbata. Afferra la mano del medico chiedendogli ansiosamente se il suo svenimento possa essere legato a una possibile gravidanza. Il medico, con uno sguardo che rivela più di quanto le sue parole possano mascherare, nega con un tono misurato, informandola che la gravidanza non è la causa del suo malore. Tuttavia, la verità è ben diversa. Nian è realmente incinta, ma in un angolo oscuro di questa intricata rete di menzogne, e mira già tessuto un ulteriore trama ingannevole. In un precedente incontro nascosto agli occhi di tutti, egli ha convinto il medico a nascondere la verità a Nian. Così, mentre lei cerca risposte, ignara, gli inganni continuano a tessere un velo sul suo destino, influenzando profondamente il corso degli eventi futuri. In una sera che sembrava destinata alla tranquillità, Asu ed Emir decidono di visitare insieme la loro madre, Mujgan. L'atmosfera in casa è permeata di un quieto sentimentalismo, ma è destinata a essere scossa da rivelazioni profonde e dolorose. Raggiungendo la stanza dove la loro madre riposa, i fratelli si trovano al cospetto di Mujgan, il cui viso è illuminato dalla debole luce della lampada sul comodino, creando un'aura di venerabilità e fragilità. Il silenzio che avvolge la stanza è interrotto quando Emir, con un tono inaspettatamente incisivo, pone una domanda che sembra fuori luogo in un contesto tanto intimo. Hai mai pensato quale dei tuoi figli amassi di meno? Il peso delle parole di Emir fa vibrare l'aria con un'intensità palpabile. Asu, cogliendo il sottile velo di tristezza nelle parole del fratello, risponde con gli occhi ricolmi di dolore e un timbro di voce che tradisce la sua rassegnazione. Me. È tornata a Istanbul per salvarti, anche se sapeva che per lei sarebbe stata la fine. Questa rivelazione, pronunciata in una stanza semibuia dove ogni eco sembra trasportare con sei anni di sacrificio e segreti non detti, lascia i fratelli avvolti in un silenzio ponderoso. Il passato irrompe tra loro, rivelando non solo le scelte e i sacrifici della loro madre, ma anche l'impatto duraturo di queste decisioni sui loro cuori e sul loro rapporto fraterno. Questo momento diventa un crocevia emotivo, un nodo che ciascuno di loro dovrà sciogliere nel proprio intimo, mentre la sera lentamente si dissolve nell'ombra crescente che avvolge la stanza. In una stanza impregnata di tensione e rivelazioni passate, Emir affronta il dolore e l'incomprensione che hanno segnato la sua vita. Le sue parole sono cariche di una rivelazione forzata. Allora è questo il motivo per cui mi odi, dice, la voce vibrante di una tristezza profonda. Asu, con un'espressione segnata dall'amarezza degli anni vissuti all'ombra di un amore materno diviso, risponde in tono fatalista. Sono cresciuta con l'odio. Le parole echeggiano nella stanza, pesanti come il destino che sembra aver sempre giocato contro di loro. Emir, con una sfida velata nella voce, circa una breccia in quella barriera emotiva. Pensi che tutto sarebbe potuto essere diverso se fossimo cresciuti insieme? La domanda è un tentativo disperato di ricucire uno strappo forse troppo profondo. Masu, con fermezza che non lascia spazio a dubbi, taglia corto, non sarò mai tua sorella. Le sue parole sono definitive, un confine che rifiuta di attraversare. Per te è più facile che io sia un tuo nemico, replica Emir, una constatazione amara che svela quanto la loro relazione sia intrisa di conflitto e distanza irrisolvibili. In risposta, Asu si avvicina alla madre con un gesto che unisce affetto e addio. Depone un bacio sulla sua mano, un gesto di amore e di conclusione, e poi si prepara a lasciare la stanza, e forse, a lasciare alle spalle un capitolo doloroso della sua vita. In un raro momento di vulnerabilità, Emir decide di sfogare il suo cuore pesante di segreti ad Asu. Mentre un'aura di confidenza fraterna aleggia inaspettatamente tra loro. Emir rivela, con voce carica di un'emozione contrastante, Nian è incinta, non so come vivrò con questa rabbia. La notizia arriva come un colpo al petto per Asu, lasciandola senza parole e con un intuito repentino. Allora è svenuta per quello. L'autocritica di Emir affiora subito dopo, mentre l'ira per la propria impotenza lo assale. Qualunque cosa faccia, non riesco a porre fine all'amore tra Kemal e Nian, non sono abbastanza forte? Le sue parole sono il riconoscimento di una battaglia interiore, lottando contro sentimenti che sembrano sopraffarlo ogni giorno di più. Nel raccontare ulteriormente, Emir rivela che la gravidanza di Nian è frutto di una fugace ma intensa riunione con Kemal. I due, dopo cinque anni di separazione e di sentimenti inespressi, avevano trascorso la loro prima notte insieme. Un momento di rinnovata intimità e speranza che però si era bruscamente interrotto. Emir, consumato dalla gelosia e dalla determinazione di controllare gli eventi, aveva imposto un ultimatum crudele a Nian. Tornare a casa o vedere Leila, la persona a lei cara. Soffrire le conseguenze. La decisione di Nian di accondiscendere a tale richiesta era stata un atto di disperato sacrificio. Una scelta forzata tra l'amore e la sicurezza di chi ama.